Una giornata di festa oggi per gli abitanti della Valle del Reno. Dopo tre anni di disagi alla viabilità, riapre il ponte Leonardo da Vinci di Sasso Marconi, prezioso collegamento tra la Valle del Setta e la strada statale Porrettana. All'inaugurazione il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, accolto dal presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e dalle autorità di Anasa che ha eseguito i lavori sul ponte, dalle autorità cittadine e il sindaco di Sasso Marconi Roberto Parmegiani. Tre anni di lavori tra la demolizione del vecchio impalcato e delle pile in calcestruzzo armato e la costruzione del nuovo impalcato in acciaio calcestruzzo sull'arcata esistente. Così come ci vollero tre anni per la costruzione dal 1954 al 1957 sul progetto dell'ingegnere Bruno Bottai. E all'epoca questo ponte vantava il record di avere l'arcata più ampia, 144 metri e 30 metri di altezza sul fiume Reno. Solo Anasa sta investendo più di tre miliardi di euro, solo in Emilia Romagna, quindi fra strade, autostrade e ferrovie, conto di portare indotte, lavoro e stipendi a migliaia di operai, di artigiani, di elettricisti, di architetti, di ingegneri. Quindi è una bellissima giornata prenatalizia. Era attesa, era necessaria, il fatto di averla realizzata e inaugurata in tempi addirittura più brevi rispetto al previsto va a merito delle lavoratrici, dei lavoratori, delle imprese, della direzione dei lavori. Insomma siamo molto contenti ovviamente di questo, peraltro in un momento in cui l'economia non sta andando bene e il prossimo anno le stime di crescita sono state pressoché dimezzate, con il rischio della stagnazione abbiamo bisogno di investire, di garantire lavoro, garantire alle imprese di poter lavorare, soprattutto perché questo garantisce a questa terra e a questa regione un di più di crescita di cui abbiamo necessità perché ne ha bisogno il paese. Abbiamo smontato l'impalcato che era degradato, non era più recuperabile e abbiamo realizzato una sovrastruttura in acciaio e calcestruzzo, che è quella sulla quale stiamo in questo momento, quindi un ponte che in questo modo qui è completamente rinnovato, abbiamo allungato la vita, l'abbiamo reso più bello e più sicuro. È davvero il successo del lavoro delle istituzioni che quando riescono a collaborare insieme e a mettere, avere come obiettivo il bene comune, riescono a realizzare grandi opere, quindi grazie veramente a tutti quelli che hanno fatto parte di questa grande sfida.